Stiamo per liberare uno stigiforme, un piccolo gufo, un gufo comune che è stato trovato ferito sul cavalcavia della tangenziale, eccolo, che bello, sta bene, wow, che sveglione, aspetta, faccelo toccare, toccatelo da dietro però, non si può accarezzare, poco a poco, che bravo, è contento, sta bene, si è ripresa da sole in un giorno, adesso liberiamo, stiamo liberando questo bufetto, ti libero, ti libero, così, tieni torni a casa, è bravissimo, vuole andare, aspetta, inquadriamo, questo lo lasciamo libero, ok? Ciao! Guarda come va, guarda, filmalo, ciao bufetto, ciao, vieni, bello, non lo vedo più, è andato là, è là, in basso, è andato sulle fianche, è sceso, è andato sulla fianza, eccolo là, anche là là, spegnito.